buonasera buonasera casimiro buonasera stasera orlando grazie casimiro di essere venuto stasera abbiamo l'onore di farvi conoscere un caro amico un artista un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla promozione dell'arte che ultimamente in qualche modo ha voglia anche di proporsi attraverso una serie di iniziative che poi lo faremo parlare perché casimiro ci dirà quali sono le sue iniziative quello che ha fatto eccetera e soprattutto mi piacerebbe sapere da lui ecco come arrivato a questo tipo di scelta che hai fatto non è facile in ticino proporre delle attività di tipo culturale di tipo artistico e avere il successo che hai avuto perché il successo c'è stato forse non economico forse quello mi dirai tu no ma il successo c'è ti conoscono tutti tutti ti vogliono bene tutti vogliono fare delle cose con te e io ho la fortuna di averle fatte allora casimiro la domanda che ti faccio è questo dimmi un attimino da dove vieni tu da dove da dove sei partito e che cosa stai facendo cosa hai fatto prima di tutto grazie per l'invito caro orlando allora io sono partito si può dire da ragazzino ragazzino eravamo una famiglia di 11 figli e naturalmente a quel periodo lì subito dopo la termine della guerra seconda guerra mondiale essendo 11 figli dovevamo darci tutti da fare la porta della casa i miei genitori era sempre aperta per tutti mia mamma mia aveva sempre insegnato che bisogna sempre aiutare gli altri anche se si è poveri io già da ragazzo io esco da una famiglia di piazza però sono cugino di bignasca quindi avevano le cave di lodrino e così allora già da ragazzo mi piaceva lavorare sia legno scolpire il legno sia lavorare con un po di pezzetti di marmo creando dei piccoli mosaici naturalmente sotto casa nostra c'era un vecchio falegname che si chiamava il bernard giacomazzi e da lui ho imparato subito le prime le prime ridumentali lavori con gli scalpelli fare delle piccole stelle e quindi ho imparato subito mia mamma mi lasciava sempre lì in questa bottega da legname sì sì però sei andato avanti perché poi so che non è che fai solo sculture su legno hai fatto altre sculture e poi c'è pian pianino ti sei messo anche a dipingere e la mia vita poi è partita proprio da facevo il pastore di pecore di capre naturalmente e prendevo facevamo la cosiddetta ruota no prendevo le pecore da una famiglia da un'altra e ci pagavano 50 centesimi a capo al mese al mese quindi quindi si guadagnava circa anche per l'estate ragione una bella cosa però la mia vita io ho imparato un po di tutto ho imparato l'idraulico da 59 al 62 l'idraulico ho fatto uno dei primi apprendisti del canteo di ticino agli esami del 62 però ma da dove tu non nasci se non sei un figlio d'arte quindi a un certo punto ti sei innamorato dell'arte è vero che hai avuto la possibilità di fare delle delle sculture ha cominciato a lavorare con legno e poi dopo sei andato avanti ma da dove arriva questo questo amore che hai per l'arte che a un certo momento della tua vita si è assorbito completamente allora io a mia mi piaceva sempre anche da ragazzo da ragazzino sempre disegnare anche nei boschi quando facevo il pastore di pecore di capre io disegnavo sulle piante nella corteccia facevo dei disegni sulla corteccia con un coltellino facevo i disegni non so leone disegnavo di diverse cose togliendo la piccola corteccia ti resta come una patina è come una tela sulla pianta poi si incideva una faccia una bestia ora un fiore ti tocca le cose lì chi è che si è accorto di te chi è che a un certo punto ha visto il giovane casimiro che si dava da fare in questo modo e che poi in qualche modo credo che ti abbia anche stimolato ad andare avanti allora alle scuole alle scuole maggiori c'era il professor villa lippo villa era un maestro di disegno e ha visto sicuramente che facendo i disegni sia delle bestie sia anche del corpo umano perché al principio mi sarebbe piaciuto studiare scusa un po da medico come si dice perché mi piaceva fare sezionavo tutto il corpo umano cuore fegato ho fatto tantissimi disegni che saranno esposti alla mia grande mostra che farò per gli 80 anni quest'anno a novembre però dopo continuo a cambiare poi volevo magari andare a studiare invece di medicina qualche cosa d'altro il corpo umano la natura ma naturalmente essendo 11 figli professor villa scritto mio papà che si trova a berlino lavorare e ha detto guarda che mandarlo a studiare e lui ha detto sarà impossibile perché noi da sfamare romo in tanti e centesimi erano pochissimi quindi ha dovuto rinunciare a questo sogno ha dovuto rinunciare al mio sogno però dico la verità che come autodidatta sono felicissimo di aver fatto questa questa mia piccolo percorso culturale tutta questa mia vita no e conosco i tuoi quadri perché soprattutto tante volte tu da te mi piace venire dal tuo laboratorio perché è un mondo da scoprire e anche perché la tua disponibilità a mostrarvi per vedere eccetera ho preso dei quadri che ho appeso in casa mia sono lì ancora scuro si sono molto fiero però ecco anche lì c'è la tecnica ci vuole la tecnica e come hai fatto l'ho imparato con chi hai imparato io ho avuto la fortuna un po' anche l'idea di quella cosa che io di incontrare le persone io ho conosciuto filippo boldini filippini cotti tantissimi grandi artisti da carnavoli così è un parato da ruba un po il mestiere come si dice conoscendoli andava nel loro atelier dobransky a casarate doveva una grande baracca no c'era una grande baracca dove c'è adesso la casa torre e lui aveva la sua atelier io passavo di lì andavo dentro a trovare salutarlo e tra un bicchierino e l'altro che lui piaceva bere come si dice rubavo poco come facevano i fondi perché erano scuri chiari come felice filippini mi ha insegnato a fare i fondi color sangue proprio sangue color sangue dove facevo i suoi signori madonna e così è un parato tante cose da questi grandi artisti naturalmente dopo io andare avanti nella mia attività ho avuto dei gravissimi problemi di salute di salute negli anni avevo iniziato nel 63 gravi incidenti di moto che sono resta ero già partito dall'altro mondo e il dottor enrico ceglio mi ha salvato la vita no allora già a partire da quei momenti li ho capito che io dovevo fare qualche cosa anche per queste persone con disabilità e mi è sempre restata dentro quella cosa di dire ma guarda quel povero ragazzo lì che si trova a letto paralizzato non può più morsi tetraplegico e così bisognerebbe fare qualche cosa io ho avuto diverse gravissime malattie sono stato all'ospedale più di due anni san gala zurigo balgristo girato po questi ospedali e credevo di non più uscirne ho fatto una promessa che se sarei uscito con le mie gambe avrei fondato una scuola per persone con disabilità e questo l'ho fatta a partire dal 2005 però già prima organizzavo tantissime delle mie mostre sempre a favore delle persone con disabilità o gruppi di persone che avrebbero avuto bisogno ecco sempre fatto questa cosa e poi c'era l'aspetto sociale di stare insieme di fare delle cose di sentirsi apprezzati quindi avevano anche un aspetto come te da psicologo insomma stimolandoli incoraggiandoli io li ho visti dico questo perché sono stato lì e li ho visti e ho visto quello che fa e questa è una cosa che ti fa onore casimiro perché perché questo è impegnativo costa ma tu l'aiuto l'hai ricevuto hai ricevuto degli aiuti allora io devo dire che quando sono stato invitato da te a venire a fare dei corsi con i tuoi utenti devo dire che ho imparato tantissime cose io non ho studiato psicologia né niente però si impara molto da una persona come te come si trattano le persone così e questa cosa me la sono portata anch'io dietro perché io da quando la 2005 ho aperto la mia scuola per persone con disabilità a villa luganese naturalmente ho dovuto darmi da fare per trovare qualcuno che mi la mano e allora io un po come si dice però sullo stomaco come si dice e ho tantissime persone che conosco scritto mi ricordo che dal 2004 ho scritto più di 200 lettere tutte a mano ancora come faccio come mi ha insegnato mio papà che bisogna fare le cose a mano per esempio carissimo orlando sto organizzando questa cosa se potresti darmi una mano un po così alla buona no e devo dire che già dal 2005 ho trovato tantissime persone amici dagli amici dagli amici che mi hanno dato quel famoso colpo di mano per aprire questa scuola che adesso sono 19 anni che funziona naturalmente tutti gli anni devo darmi da fare per per trovare i fondi per andare avanti e questo è un nostro lavoro perché hai fatto da solo se tutto da solo se hai un impiegato non ho nessun impiegato anche le pulizia faccio io sono stato giù alcune volte da te in occasioni di mostre di porte aperte eccetera e ho visto che sembra essere conosciuto da tutto il cantore ho visto uomini politici importanti ho visto imprenditori ho visto liberi professionisti ho visto persone che ecco non avrei mai immaginato di trovare lì da te e li ho trovati e tutte queste persone ecco erano entusiaste del tuo lavoro poi non so se tutti ti hanno aiutato o no quello l'altra faccenda non ho indagato quello che è la cosa mi ha sorpreso è il giro di conoscenza che hai un giro straordinario il che vuol dire che sei conosciuto sei apprezzato qui in ticino evidentemente ti sei fatto un nome adesso la situazione attuale com'è adesso tu hai quanti anni adesso quest'anno faccio gli 80 anni 16 novembre speriamo di arrivare a festeggiare l'ottantesimo lo festeggiare e come intendi festeggiarlo allora per per festeggiare il mio tantesimo compleanno già sono partito da un anno e mezzo fa l'anno scorso primavera ho pensato che bisogna fare qualche cosa anche per ringraziare tutte le persone che mi hanno dato una mano tutti questi anni e qualche cosa bisogna fare non bisogna solo prendere cercare dai dammi una mano così allora ho pensato di scrivere un libro sulla mia vita e allora io ho un amico raimondo locatelli che è stato giornalista del giornale del popolo e anche dal consiglio di stato e ha già un po di tempo che continuo a dirgli dai che partiamo 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 allora io ho un armadio la mia sede della scuola pieni di documenti forse otto scatoloni pieni di articoli e un consegnato tutto a lui quindi è un autobiografia che locatelli sta scrivendo se dietro tuo come dire supervisione controllo ci parla di tutta la mia vita si esatto quindi tutto quello che avevo fatto niente diventato non è tutto stato estrapolato anche dalle vecchie raccolte di tutte le mie scuole che ho fatto io io ho fatto solo fino alle scuole maggiore quella predistato e quelle cose però è venuto fuori che ho dipinto io ho scolpito creato modo di dire più di tre mila opere tra sculture quadri lavori con legno tavoli che sedie più di tre mila opere e sul libro saranno saranno pubblicate perché è difficile fare mettere tutto perché diventa complicato però circa 600 700 opere saranno pubblicate come ti posso aiutare io io vorrei darti una mano vorrei aiutarti e visto che qui siamo naturalmente davanti un pubblico che si sta ascoltando quello che verrà detto qui è quello che verrà di fatto realizzato non ci sono chiacchiere inutili allora io ti sono molto debitore perché quando abbiamo fatto delle cose assieme tu ti sei messo sempre a disposizione quando ho visto le tue opere mi sono piaciute alcune abbiamo trovato l'accordo senza problemi senza nessun tipo di difficoltà e vorrei e vorrei in qualche modo un po' esibitarmi di tutto perché ti sono amico e apprezzo perché stai facendo e vorrei che questo momento che stiamo condividendo con i nostri telespettatori fosse un elemento anche per stimolare gli altri a fare la stessa cosa allora in che modo le persone ti possono aiutare adesso da adesso in poi quello che hanno fatto prima non lo sappiamo quelli che ti hanno notato bene gli altri vabbè insomma lo faranno dopo però dimmi io come posso aiutarti ti ringrazio per questa domanda prima di tutto mi ha già aiutato tanto in tutti questi anni e anche nel libro ci sarà una pagina che hai scritto un saluto che hai portato un mio saluto e mi fa molto piacere ti ringrazio di tutto cuore poi un aiuto in questo momento io adesso sto organizzando una grande mostra che sarà all'ex asilo Ciani a Lugano che c'è stato ho già parlato con l'odeo del municipio di Lugano già l'anno scorso mi hanno riservato tutto l'asilo per il mese di novembre di quest'anno e allora dall'otto al 17 novembre ci sarà una grande mostra con esposte più di 200.000 opere sia quelle che ho fatto e quelle che farò quest'anno saranno in vendita sempre per il progetto per persone sì per il mio progetto per i disabili tutto sì questo è un aiuto che potrebbe che potrebbe sì ma non solo poi non è solo quello poi ci sarà al 16 di novembre il giorno del mio tantesimo compleanno al palazzo dei congressi abbiamo già organizzato stiamo organizzando tutto pronto una cena di solidarietà per tutte le amiche e gli amici che saranno invitati che ho già scritto ma arriverà l'invito più tardi e qui ci sarà ci saranno la distribuzione del libro poi ho dimenticato la presentazione del libro sarà all'otto di novembre all'ex asilo Ciani sarà una serata solo per la presentazione del libro poi al 16 di novembre che è il sabato al palazzo dei congressi vicino all'asilo Ciani sarà una grande manifestazione una cena di solidarietà saranno moltissime persone dove le persone possono fare delle donazioni si possono fare delle donazioni perché la mia idea è quella di invitarli gratuitamente però dopo faranno un'offerta per darmi una mano ecco perché ci saranno questa serata ci saranno stanno preparando adesso il mariani grande grande che fa i filmati anche a l'everesco si sta filmando sta preparando un grande filmato di tutta la mia vita che ha estrapolato da tutti i filmati che ho fatto durante le mie 300 passamostre e va rappresentato lì al palazzo dei congressi sarà proprio fatto vedere durante la cena quindi una grande manifestazione hai pensato di invitare anche personaggi della politica? ci saranno personaggi molto importanti il consigliere federale Ignazio Cassis ci saranno tutti i consiglieri di stato che anche loro hanno scritto sul libro l'odeone municipio di Lugano adesso non so come andrà a finire con la storia delle votazioni i gran consiglieri, il presidente del gran consiglio sto organizzando una bella cosa io vorrei che capissero perché anche tramite il cantone dovrebbero anche capire che il mio progetto per le scuole speciali è anche cantonale quindi dovrebbero capire che bisognerebbe fare qualche cosa adesso che io ho 80 anni dovrebbero entrare loro a andare avanti con il mio progetto ti preoccupi per il futuro sì sì ho già parlato con il dipartimento forze nuove insomma forze nuove sì anche questo è un aiuto per arrivare quindi da idea nasce idea e non è detto che troviamo anche chi è interessato a proseguire perché adesso la scuola va quasi avanti da sola per dire tutto già organizzato quest'anno già iniziamo a 5 di marzo gli allievi mi scrivono, mi telefonano quando iniziamo e noi abbiamo bisogno di venire su da te perché è una cosa un po' alla buona ma ci sono 30 allievi della scuola speciale una quindicina di persone con disabilità mentale che vengono dal centro di Lugano o 6 o 7 persone con disabilità con le carrozzine che vengono li invito io e fa molto bene a loro adesso poi mio figlio Gabriele Piazza sta organizzando un grande concerto un grande concerto al Metic Center di Irani il 20 di aprile 2024 questa è la locandina e stanno dandosi da fare già da diversi mesi per organizzare questo concetto a favore del mio progetto per persone con disabilità e questi sono tutti gli spazi? questi sono gli spazi che ha trovato mio figlio con i suoi amici che hanno organizzato la cosa e lo ringrazio perché sta lavorando da diversi mesi per questa grande manifestazione che non è facile al giorno d'oggi assolutamente una bella manifestazione il 20 di aprile 2024 Casimero ti posso chiedere ecco questi sono i progetti di cui mi hai parlato quelli ufficiali il momento di questo questo momento importante dove si fa il punto dei tuoi 80 anni e in qualche modo si cerca anche di far sì che attraverso questo ci sia poi dopo un ritorno importante ritorno sì ci sono altri progetti che hai perché non mi dirai che non hai altri progetti che ti girano in testa no adesso stiamo facendo stiamo già lavorando da un anno preparando dei mosaici per esporre alla manifestazione sempre mosaici importanti eseguiti dai ragazzi delle scuole speciali ognuno dipinge dei triangolini uno due tre quattro a seconda sono già quasi tutti pronti poi saranno incollati su tavoli di legno 80 pezzi ogni mosaico ha 80 pezzi che ogni una di queste opere sarà regalata uno al cantone di Ticino un cilio di stato no come ricordo e uno al municipio di Lugano poi ci sarà un grande mosaico di 676 pezzi che abbiamo già realizzato più di 15 anni fa con i ragazzi delle scuole è stato posato con dei quadratini plastificati ognuno ha eseguito il suo lavoro quello è già pronto poi stiamo preparando anche un altro un altro progettino sempre con le scuole delle scuole speciali come un concorso che faremo durante l'esposizione alla Zirociani però stiamo studiando adesso come fare per invogliare le persone a capire cosa si è fatto in questi 19 anni prima cosa anche io ho sempre sostenuto che l'arte può aiutare risvegliare le coscienze un po' sonnolenti e forse la mancanza di fiducia in se stessi e il piacere in qualche modo della vita insomma di godere delle belle cose della vita ritrovare l'entusiasmo secondo te l'arte come fa a far sì che ecco ci sia questa voglia questa rinascita questo ritorno alla vita di persone che magari ecco hanno avuto una vista difficile e che hanno avuto momenti drammatici e che magari non hanno più voglia di andare avanti come fai e come è possibile che questo succeda te lo chiedo anche come terapeuta ecco umilmente non ho la mia visione però mi piacerebbe sentire la tua questa è una bellissima domanda e come ti ho già detto prima io non ho studiato non ho avuto la possibilità di studiare ma conoscendo e uscendo da quei famosi gravi malanni che ho avuto io trovo anche con queste persone con disabilità ma anche con persone che magari prima stavano bene e poi sono cadute un oblio come si dice per gravi malattie psicologiche così forse io ho qualche non so se ho un dono ma quando vengono da me che dicono vorrei venire a fare un corso da te perché io mi sento giù di corda non sto bene io forse ho una bella maniera di riceverli ci sediamo al tavolo raccontiamo un po' così cosa si fa prima gli faccio vedere tutta la la struttura della scuola dopo ti domano però io vorrei fare anche io un disegno così perché ho capito subito che fa bene a loro ma fa bene anche a me perché si siedono anche se fanno solo in una tela fanno solo dei circolini per dire cosa vuol dire qualche cosa per loro cosa vedono nel circolino e allora una raga una signora che viene da me ha detto che vede tutta la sua vita cosa è capitato da quando stava bene adesso che non sta tanto bene a me vedono anche in te l'entusiasmo l'amore che dai loro e anche la fiducia perché è importante il modo con cui ti porgi a loro hai detto prima c'è qualcosa nella tua personalità nel tuo carattere nel modo in cui li accogli li prendi in braccio li porti avanti che li incoraggia e gli fa ritrovare la fiducia della vita nel prossimo e pensare anche le belle cose della vita che ci sono anche le brutte ma c'è tanta belle cose senti ti volevo chiedere qualcosa di un po' un po' sfizioso hai conosciuto tanta gente hai qualche bel aneddoto da raccontare di artisti che hai conosciuto un po' eccentrici particolari che ti hanno colpito e che ti hanno lasciato un segno sì questa è una bellissima domanda è come se sei seduto qui vicino a me io a otto anni sempre quando facevo il pastore di pecore al mese di novembre mi mancavano sei o sette pecore sotto i denti della vecchia e io giravo di qui e di là non le trovavo più io ero preoccupatissimo perché dovevo consegnare le pecore al proprietario allora passando dalla zona di denti della vecchia a Villa Luganese verso l'Alpebolla ho incontrato un signore ad orso nudo il mese di novembre con un cagno bulldog e si chiamava Peppo Frigerio e allora gli ho detto scusi ma io sto cercando delle pecore e non le trovo più sono due o tre giorni che giro di qui oh le ho visto io l'altro giorno erano là vicino una valata lì e siamo andati assieme e avevano trovato le pecore e io quel giorno lì ho incontrato una persona che era stata amica fino a che è morto nel 1999 l'11 di settembre per dire che io ho incontrato Peppo Frigerio il nipoto del grande pittore Ambrogio Preda Peppo Frigerio che era un grande artista che ha studiato a Brera e andava da D'Avesco fino a Lugano a prendere il treno fino a Chiastro col treno poi andava col bus fino a Milano a studiare poi i signori ricchi mangiavano al ristorante invece lui andava alla Madonnina a mangiare un panino ha studiato è nato nel 1915 quindi il Peppo Frigerio che è diventato un grande artista che io sono stato amico fino alla sua morte però gli sono stato vicino anche durante la sua gli ultimi due tre o quattro anni che era stato paralizzato lo portava in giro con la carrozzina era come portare in giro un ragazzo cantava l'idea scherzava e gli sono rimasto vicino guardando poi è come se è qui vicino a me adesso quanti anni sono passati questa amicizia quanto è durata? è durata da quando io avevo 8 anni quindi 72 anni fino a che lui è morto nel 99 e abbiamo io racconterò la storia sul libro perché il Peppo è come un fratello maggiore ecco quasi mio padre è una delle ultime domande che non ci siamo preparati non ci siamo preparati tutto spontaneo però la curiosità c'è c'è qualcuno qualche qualche artista qualche uomo politico qualche personaggio della cultura che ti ha trattato male che non ti ha preso in considerazione che ti ha fatto star male è successo questa non devi dirmi no no non dirmi no comunque è capitata più di una volta che vengono delle persone a trovarti ormai sai anche te come è la situazione vengono che bello sei bravo qui hai fatto questo hai fatto quello bisogna fare qualche cosa adesso cercherò cercherò di fare qualche cosa per te e quelle due o tre o quattro persone lì non ho mai ricevuto niente però d'altra parte io adesso sono ho messo una corazza e per me queste cose non fanno più niente conosco i miei polli come si dice come hai detto te prima di tutto sei una grande persona io ti rispetterò sempre sei una brava persona che mi ha sempre aiutato e ti ringrazio di tutto cuore però queste persone quando le incontro penso che si fanno non ho qualche domanda perché pensavano che magari io esco da una famiglia di Paul Strachon come si dice in dialetto no però che ho cercato di fare qualche cosa ma non l'ho fatto per me per andare a mangiare bene a macchina e quelle cose ho sempre fatto questo mio progetto a favore degli altri cercherò di farlo fino a che posso ecco e questo è il mio perché il mio moto è ti regala una mia opera se mi dai una mano al mio progetto non per metterli mettervi perché io il mio progetto non è che arrivi sempre alla fine del anno che sei quasi sempre indrosso per dire non è così semplice non è così semplice però adesso tu dipingi ancora? sì sì io dipingo scolpisco non hai mai rallentato? mai non ho mai mai sì sì sempre è piena attività ancora sì 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 perché adesso sto preparando anche delle per un torneo di voce campionato ticinese mi hanno dato il compito di creare delle voce d'oro d'argento di bronzo di legno ci sarà un torneo il mese di marzo poi ci saranno altre ho regalato ultimamente delle opere a favore per i ragazzi problematici che stanno faranno un'asta fra un mese quindi cerco di non lasciare a piedi nessuno ecco il mio scopo è proprio quello lì di non per vantarmi perché non è che non mi piacciono quelle cose lì però io voglio almeno andare avanti ancora un po' per cercare di fare qualche cosa per queste persone e lo faremo l'ultima questione poi ti prometto che è l'ultima adesso fai tu una domanda a me hai il diritto di fare una domanda prima di tutto grazie per l'invito di questa bella intervista qui nel tuo studio qui che mi fa molto piacere allora per esempio la tua vita da psichiatra psicoterapeuta sicuramente quantissimi chissà quante persone te hai aiutato e stai aiutando e cosa ne pensi che io sono arrivato a fare uno fondare questa scuola che io non ho fatto nessun studi cosa ne pensi di questo mio carattere un po' così alla buona ecco quello che mi sorprende sempre quando incontro personaggi come te è la determinazione la volontà è quello che dico sempre anche ai miei pazienti allora da una parte c'è l'aspetto emotivo le emozioni dall'altra parte c'è l'aspetto cognitivo i pensieri la formazione che uno ha i libri che ha letto le istruzioni che ha avuto o meno ma c'è una terza grande forza che è la volontà la volontà che c'è dentro di noi la fiducia che abbiamo di noi stessi il non voler mai mollare perché abbiamo preso una strada e il nostro destino è quello quindi quello che mi affascina in tutto questo e nella tua vita tu sei da questo punto di vista esemplare è che tu hai sentito un certo momento che tu avevi questa possibilità che la creatività doveva in qualche modo uscire e non hai mollato davanti alle difficoltà ti sei dato da fare no? sempre e quindi mi conferma ancora una volta che più dell'istruzione più degli aspetti caratteriali gli aspetti anche legati anche alle difficoltà che possono insorgere nella vita di una persona quello che determina il nostro destino è soprattutto la volontà ridere la volontà e non lasciar sentire morire da nessuno ti ringrazio Casimiro della bella chiacchierata è un grande amico grazie e andiamo avanti così ancora a forza ce l'ho ancora grazie casimiro grazie a voi per aver ascoltato per aver seguito seguite questo grand'uomo venitemi dietro ricordate le date rivedetelo questo filmato fatelo passare ai vostri amici ai vostri conoscenti perché merita il sostegno tutto il sostegno che potete dare grazie a cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie